Partiti! All'inizio della curva allunga un rimena, davanti a Show Many Shot, QDNF, Alba Dorata, poco prima dell'ingresso, prosegue in vantaggio un rimena, davanti a Show Many Shot, Maison Destination e QDNF, i cavalli entrano in dirittura, con un rimena in vantaggio lungo la corda, davanti a Show Many Shot, Maison Destination, QDNF, Alba Dorata, I Love This Me Well, e sempre in vantaggio un rimena, davanti a Show Many Shot, Maison Destination, QDNF, Alba Dorata, I Love This Me Well, conduce sempre lungo la corda un rimena, davanti a Show Many Shot, QDNF, Alba Dorata e Maison Destination, passa a Show Many Shot, davanti a Un rimena, QDNF ed Alba Dorata, in vantaggio, Show Many Shot, davanti a Un rimena e QDNF. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.